Non so se hai mai sentito parlare della storiella dei quattro fornelli, l'ho sentita nominata la prima volta da Greg McGowan ed è una storia angosciante riguardo al successo imprenditoriale, praticamente questa metafora, che si chiama metafora dei quattro fornelli postula il fatto che ci siano nella vita quattro fornelli immaginari con quattro fiamme, una è la fiamma della famiglia, l'altra è la fiamma dell'amicizia l'altra è la fiamma della salute e l'altra è la fiamma del lavoro e praticamente più uno desidera avere successo in uno di questi quattro quadranti o quattro fornelli più deve decidere di sacrificare qualcuna delle fiamme rimanenti, quindi immagina che ti trovi in questa metafora a dover sacrificare o la famiglia o la salute o l'amicizia nel momento in cui vuoi crescere come imprenditore e ho fatto una ricerca e questo aneddoto riguarda decine di anni fa quando ancora non c'era internet, quando ancora non si parlava e non esisteva l'ipercomunicazione, cosa di cui ti ho parlato nelle diverse lezioni di questo corso e soprattutto non c'era questa iperconnessione umana che permetteva una scalata efficace, efficiente e super veloce in quello che è un percorso imprenditoriale e i tempi sono cambiati tanto, una delle mie maggiori passioni e preoccupazioni anche è veramente la ricerca dell'equilibrio tra quello che è il lavoro e quella che è la vita privata, tra quello che è il dovere e quello che è il piacere è quasi un'ossessione che mi ha sempre riguardato, mi ricordo che un tempo ho preso in mano questo libro L'arte della felicità del Dalai Lama e il Dalai Lama parlava proprio dei principi del buddismo e parlava soprattutto anche di come fosse estremamente difficile essere felici ma allo stesso tempo essere ambiziosi provare desiderio, provare un'enorme ossessione verso i risultati questo insieme di cose in qualche modo secondo Dalai Lama e secondo la visione buddista erano alcuni degli elementi fondanti di un cattivo comportamento nei confronti della propria felicità delle proprie emozioni, di quella che poteva essere la propria stabilità umana e questa cosa ha iniziato in qualche modo a riguardarmi molto perché io allo stesso tempo anche se avevo una grande passione per tutta quella che era il movimento magari buddista l'ideologia buddista, la meditazione, la ricerca della felicità dall'altro punto di vista ero ossessionato anche dal percorso imprenditoriale e mi sono reso conto negli ultimi anni che ci troviamo in un momento di rivoluzione completa una grande rivoluzione, si parla di rivoluzione francese, di rivoluzione industriale e ora stiamo andando verso quella che è la rivoluzione tecnologica e la rivoluzione tecnologica cambierà completamente il modo in cui viviamo le vite non solo, viviamo anche nel periodo storico dotato di maggior benessere medio per individuo e questo non riguarda me o te che stai guardando ma riguarda tutta l'umanità la durata della vita media, la ricchezza per abitanti del pianeta eccetera tutto sta aumentando anche nei paesi più poveri per quanto ovviamente le persone sono comunque povere in alcune zone del mondo però questa rivoluzione che sta avvenendo soprattutto basata sull'iperconnessione, l'ipercomunicazione sta portando in essere proprio delle metodologie del fare impresa completamente diversi e soprattutto sta nascendo tutto un filone imprenditoriale che vede la crescita dell'individuo come un postulato, come una cosa imprescindibile come una cosa importantissima per crescere come imprenditore se non sei in salute non performi se non hai quella stabilità emotiva e non sei uno scoglio in una tempesta e questa stabilità emotiva la ottieni solamente dalla famiglia, dagli amici, dalle relazioni non puoi competere nel gioco imprenditoriale perché avrai sempre un punto di debolezza avere una stabilità emotiva dovuta alle proprie relazioni avere la salute, avere una preparazione fisica dedicarsi anche al proprio corpo, dedicarsela a propria mente l'insieme di questi fornelli ci rendono dei grandi imprenditori ma soprattutto dei grandi umani e mi fa ridere vedere ancora oggi molte persone che dicono no ma se vuoi fare l'imprenditore devi sacrificare tutto devi sudare sette camicie devi rovinare la tua esistenza devi in qualche modo annichilirti per poter far sì che in qualche modo possa nascere il seme del successo non sono convinto di questo non sono assolutamente convinto di questo e penso di essere uno dei portavoci di un nuovo movimento che si sta creando un movimento che ha a che vedere con l'umano al centro di tutto non come imprenditore ma come umano e la crescita come individuo che può rappresentare anche una crescita come imprenditore e penso che Marketers abbia lavorato veramente tanto in questo senso siamo tra le prime realtà italiane completamente in remote working quindi questo significa che avevamo un ufficio a Milano nel grattacielo dell'unico ora siamo completamente senza uffici siamo in più di 30 persone e nessuna di queste persone lavora nello stesso ufficio ogni giorno la maggior parte di queste persone anzi lavora da casa può gestire il tempo come preferisce e può decidere in che maniera ottimizzare le proprie scelte in fatto di tempistiche cioè una delle persone che lavora con noi idealmente può svegliarsi e decidere di non lavorare quel giorno perché può lavorare di più o il doppio giorno successivo può decidere di lavorare di sera perché preferisce lavorare la sera può decidere di lavorare solamente la mattina se è così efficace da produrre l'output che è richiesto è uno shift di pensiero non è più il dipendente non è più il collaboratore dipendente ma è l'imprenditore in un contesto aziendale cioè noi quello che ricerchiamo sono persone che hanno la mentalità di crescita la mentalità imprenditoriale che mettono al centro di tutto l'efficacia del vivere bene e il vivere bene presuppone anche la capacità di scegliere come lavorare con che intensità in quale momento come farlo che cosa si vuole fare un'altra cosa che penso sempre che penso che sia forse la base del successo di ogni persona non come imprenditore ma come umano è che troppo spesso gli imprenditori in passato erano tenuti a costruire la propria impresa il proprio lavoro e poi a costruire di conseguenza una vita basata sul proprio lavoro quindi dovevano in qualche modo aggiustare quella che era la propria vita per far sì che questa potesse abbracciare la propria carriera lavorativa oggi possiamo permetterci di fare una cosa completamente opposta possiamo svegliarci e decidere in che maniera la nostra vita deve essere e quindi costruire una carriera sulla base di come desideriamo la nostra vita il grande problema è che la maggior parte delle persone non si chiedono che cosa vogliono nella vita non si chiedono come vorrebbero vivere dove vorrebbero vivere preferiresti vivere in un appartamento o preferiresti vivere in una casa in campagna o vorresti vivere in città o vicino alla natura come ti immagini la tua giornata tipo ogni giorno ti svegli e cosa vorresti fare come ti immagini la tua giornata che cosa fai appena sveglio appena ti alzi dal letto le prime ore del mattino che cosa fai durante il pranzo dove pranzi? pranzi in casa o pranzi su una spiaggia cosa fai il pomeriggio? lavori fino a che ora? e la sera come occupi il tuo tempo? queste sono domande importanti che ci aiutano a capire in che modo vogliamo sviluppare la nostra vita perché la nostra vita potrebbe non essere così ora ma potrebbe esserlo in futuro e per esserlo in futuro dobbiamo impegnarci noi come umani come imprenditori a costruire una vita che rispetti i nostri desideri voglio essere un surfista? se voglio essere un surfista o voglio la mia passione lo sci dovrò pensare di costruirmi una carriera un lavoro che mi permetterà di vivere in un posto piuttosto che un altro ogni cosa è possibile l'importante è capire che cosa è importante e reagire di conseguenza si può costruire un business andando ovviamente a lavorare su quelle che sono le nostre scelte come umani e poi sviluppare il business e la marketer è la dimostrazione di tutto questo non so se tenere di conto quando guardo i nostri post le nostre storie il mio grande sogno era divertirmi nel fare business era poter vivere con la mia famiglia di amici spostarmi, viaggiare viaggiare con la mia ragazza lavorare con la mia ragazza essere appassionato verso ciò che faccio e in qualche modo rendere possibile questo sogno avevo già l'idea anni fa di poter prendere una casa e starci con tutti i miei amici che potevano essere i miei collaboratori oppure andare dall'altra parte del mondo in ansia che è sempre stato un luogo che mi ha sempre ispirato con le persone con cui lavoro e in qualche modo ho costruito marketers anche assieme a Luca Ferrari per realizzare tutto questo in questa esatta misura dove l'indipendenza geografica è messa davanti a tutto adesso ti diamo un'idea di tutto questo adesso andiamo a fare un giro sopra e vediamo come vive l'imprenditore moderno allora la maggior parte delle persone quando lavorano si svegliano e odiano l'idea di svegliarsi e dover andare in ufficio e invece ciò che ci contraddistingue è che non andiamo mai in ufficio e ci vediamo talmente poco tra di noi che quando ci vediamo siamo estremamente felici questo qui è il classico esempio di azienda marketers abbiamo Andrea Bottoni qua che sta lavorando duramente Jacopo che legge Nils che monta video abbiamo pure Fabrizio the chef perché è importante ottimizzare il tempo e ragazzi qua c'è la tana del leone guardate il vero ufficio di un imprenditore ha rilegato in questa stanzina a fare conti su conti ragazzi e poi qua c'è anche Denise che per chi non lo sapesse è la mia fidanzata che si nasconde qua cosa stai facendo qua? eh lavoro cosa stai lavorando? ciao 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 ti senti osservata? e invece si usciamo un attimo questo ragazzi è l'ufficio di Vittorio Ciminini il freddo rinvigorisce mantiene l'attenzione alta si lavora bene e si rimane concentrato il punto anche guardando poi questa casa come è strutturata è la possibilità di unire tutto quello che abbiamo detto lavorare con i propri soci ma anche con i propri amici stare con la propria famiglia con la propria ragazza svegliarsi in un posto che dici caspita sono felice di star qua di sentirmi in questo modo in questo posto e sto facendo comunque qualcosa che ha a che vedere con una carriera imprenditoriale anzi anche un altro aspetto abbiamo qua vi facciamo vedere la casa abbiamo anche i giochi per i bambini così se qualche marketer smette al mondo figlio tra l'altro oggi è nata la bambina di Mauri che è il direttore CEO di una delle nostre aziende on lab e qua c'è pure la palestra e quindi per completare noi quattro fornelli uno si può svegliare si può allenare quindi basare la propria attenzione sul proprio corpo dare attenzione al corpo può stare con le persone che contano stare con la propria fidanzata i propri amici i propri soci i propri collaboratori e allo stesso tempo lavorare sono qua che sto registrando un corso e anche quando non registriamo corsi la nostra vita è così non sempre non è che siamo sempre assieme non è che affittiamo ville costantemente io e Denisa abbiamo la nostra vita ognuno di noi ha la propria vita però di intanto in tanto ci troviamo e ci incontriamo per lavorare e per stare assieme e per fare questo diciamo questa alleanza e sinergia di cervelli per costruire idee o prodotti o servizi o fare dei periodi intensivi e condensati di lavoro quindi quello che mi propongo come corso è veramente la possibilità di cambiare punto di vista decidere che puoi lavorare in maniera diversa puoi lavorare come imprenditore in maniera diversa e puoi decidere di mettere davanti a tutto quelle che sono le tue priorità o la tua idea di una vita perfetta ed è ovvio che non è facile tutto questo se fosse facile lo farebbero tutti no? siamo su un percorso che è un percorso di eccellenza di difficoltà di riuscita di lotta e anche marketers ha comunque tanti problemi perché lavorare così in maniera completamente in remote working senza vedersi così spesso porta un casino di problematiche però questa lotta la viviamo con passione sarebbe molto più facile avere degli uffici lavorare tutti in ufficio e riuscire a essere più presenti con i propri collaboratori ma portiamo avanti questa lotta perché crediamo fermamente che sia più importante godere del viaggio rispetto alla meta e quindi siamo qua a divertirci a provare passione per quello che facciamo ogni giorno piuttosto che costantemente pensare di raggiungere un obiettivo prima o poi tra qualche anno ci vediamo nella prossima lezione